All'interno di questo ciclo di incontri con i giovani professionisti, di cui devo ringraziare tantissimo il Presidente dell'Ordio degli Archietti Agrigento, Rino Lamentola e tutto il Consiglio, con la Fondazione Archietti Mediterraneo, con il suo Presidente Piero Fiaccabrino, hanno pensato di invitarmi per raccontare in maniera pratica l'ufficio della Direzione dei lavori. Del resto, quando noi giovani architetti usciamo dalla Facoltà di Architettura, ma così come tanti liberi professionisti, ingegneri, geometri che si affacciano al mondo delle professioni, molto spesso vi è una grandissima differenza tra quello che si studia l'attività pratica del cantiere, della progettazione, come conformare un progetto e nella fattispecie come organizzare una direzione dei lavori con tutto quello che comporta a livello normativo e burocratico, dove tra l'altro ci interfacciamo con imprese che ce l'hanno all'interno degli uffici che sono abbastanza organizzati e ci interfacciamo con l'ufficio dei responsabili unici del procedimento. Ecco, noi siamo il perno affinché vi sia una buona esecuzione di un'opera che possa essere pubblica o privata e oggi tenterò con i giovani colleghi di raccontare qual è l'esperienza di un direttore dei lavori sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo tecnico.